Io sono Vitaliano Giglio, Presidente del Consiglio Comunale di Ciampino. La nostra è una città di 40.000 abitanti circa ed è una città con tutti i problemi delle città italiane in questo momento. La nostra è una città virtuosa, con capacità e potenzialità di spesa, ma per effetto del patto di stabilità dobbiamo contenerci per molte cose e comprimere la capacità produttiva del nostro territorio. Ecco, questa cosa del patto di stabilità, ancorché ben motivata per contenere la spesa pubblica del nostro Paese, non deve però diventare una palla a piede che frena le capacità e le potenzialità di sviluppo dei territori.